Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, è una frase che troviamo nel Vangelo di oggi. Questa era un'usanza degli ebrei, presentare a Dio al Tempio il figlio primogenito per riconoscere che quel figlio non era solo loro, ma anche di Dio. Prima riflessione che faccio così per i genitori. I figli, anche se li avete messi al mondo voi, non sono vostri, non sono vostra proprietà e quando avvertite che vi sfuggono di mano, presentateli a Dio, affidateli a Lui. Le persone non possiamo possederle, cambiarle e modellarle a nostro piacimento e per fortuna anche e questo vale a maggior ragione per i figli, i nipoti. A volte possono fare anche scelte che non capiamo, che non approviamo, che non condividiamo, ma non possiamo cambiare la loro testa. Ma una cosa possiamo fare ed è affidarli a Dio, al Signore, a Maria, affinché i loro cuori non si smarriscano e non prendono strade sbagliate, affinché la loro bellezza possa un giorno sbocciare e fiorire. Tanto più, quando vediamo che i figli e i nipoti stanno facendo delle scelte sbagliate, è un motivo in più per pregare per loro. Ma veniamo al gesto che compiono Giuseppe e Maria, il gesto di presentare Gesù al Tempio. Ecco, è un gesto che per noi è un invito a trovare oggi o domani un momento per fermarci, metterci in un posto che ci aggrada e portare davanti a Dio l'hanno vissuto, presentarli l'hanno vissuto, riconoscendo innanzitutto i motivi di ringraziamento. Ripercorriamo il nostro anno e riconosciamo in quali situazioni abbiamo avuto la sensazione che Dio fosse davvero al nostro fianco. Così come presentiamo a Dio anche quelle situazioni problematiche che ci portiamo nel cuore e che porteremo anche nel 2024. Presentare a Dio il nostro anno per riconoscere che nonostante il nostro impegno e i nostri sforzi non tutto dipende da noi, anzi, per ricordarci che non abbiamo tutto sotto controllo. Presentare a Dio l'hanno trascorso e ripercorrerlo per renderci conto che forse non siamo così abbandonati come a volte ci può accadere di pensare, no? Come a volte crediamo di essere, abbandonati da Dio e da tutto, da tutti. Presentare, ripercorrere l'anno trascorso per accorgerci che Dio è passato nella nostra vita, si è fatto presente, magari in un evento, in un'esperienza, in una persona, a volte anche in un imprevisto, in una contrarietà, in una crisi, in una sconfitta. Oggi o domani facciamoci un regalo importante, diamoci un momento per ripercorrere l'anno, per fare memoria di quanto è vissuto di bello, ma anche di difficile, luce ed ombre, mettiamo tutto davanti a Dio, consapevoli che non tutto può essere gestito e controllato dalle nostre mani, ma occorre affidarci anche alle sue, che sanno lavorare, creare in ogni situazione, anche in quelli più incomprensibili. Buona giornata.